Punta a risolvere criticità come le lungaggini delle liste d'attese, le interruzioni delle prestazioni sanitarie ai cittadini, la proposta per le macro-aree assistenziali della specialistica ambulatoriale della riabilitazione sociosanitaria e salute mentale, avanzata dall'Associazione Aspat, rappresentativa della sanità privata accreditata della Campania, durante una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Napoli. Ora che la sanità regionale non è più commissariata per il presidente di Aspat, Pierpaolo Polizzi, è arrivato il momento di adottare il fabbisogno assistenziale, attualizzato ai livelli essenziali di assistenza e fissare nuovi tetti di spesa. Dobbiamo arrivare a comprendere di fare in modo che questo fabbisogno sia aderente alle esigenze e soprattutto non si privi del ruolo che il privato accreditato ha avuto. Le dico un solo dato, dal 2016 al 2018 abbiamo oggi presentato le tabelle comparative sul sistema dell'accreditamento pubblico e privato, finalmente messi insieme, non più distinti fra di loro. Bene, ancora nel 2018 i dati che la regione ci ha fornito documentano che la parte privata eroga in misura del 80% dei volumi di attività. Per i singoli settori della sanità accreditata sono intervenuti i dirigenti Aspat Antonio Gambardella, coordinatore regionale, e il direttore Gaetano Gambino. Speriamo che il 2020 sia una fase di programmazione appropriata. Sì, chiediamo ovviamente un'aggiunta di risorse economiche, ma chiediamo in primis questa appropriata programmazione. Nonostante dieci anni di struttura commissariale siamo stati costretti a rivolgerci al Consiglio di Stato per avere le nostre ragioni e intimare alla regione di fare la programmazione secondo l'effettivo fabbisogno di prestazione dei cittadini.